Amore per il territorio e condivisione di valori sono alla base del gemellaggio tra la Proloco Camogli, Grazioso Borgo Ligure, noto in tutto il mondo per la famosa Sagra del Pesce, e l'Associazione Punta Tresino, anch'essa da diversi anni promotrice della Festa del Pescato e di eventi natatori di caratura nazionale ed internazionale. Anche quest'anno, così come accade ormai dal 2016, le delegazioni dei due movimenti associativi prenderanno parte ai rispettivi appuntamenti gastronomici, dando ancora una volta attuazione al rapporto di amicizia e di collaborazione consolidatosi nel tempo. Tutti i dettagli organizzativi sono stati definiti nel corso di un incontro svoltosi durante lo scorso weekend proprio a Castellabate, a cui ha preso parte insieme ai delegati dell'Associazione Punta Tresino il presidente della Proloco Camogli, Tonino Verdina. Visita anche al comune di Castellabate, dove il presidente della Proloco Camoglina è stato accolto dal sindaco Costabile Spinelli, dalla vice-sindaca Luisa Maiuri e dalla consigliera Assunta Nio. Nel corso dell'incontro l'Associazione Punta Tresino ha ufficializzato anche le date dell'edizione 2019, dal 14 al 16 giugno. A Camogli invece l'appuntamento sarà per il prossimo 12 maggio.